Più di 300 interventi e oltre 300 persone soccorse da inizio anno da parte della diciannovesima delegazione lariana del soccorso alpino che comprende le province di Como, Lecco, Varese e Pavia oltre Po, un numero che si conferma in aumento rispetto alla media del periodo. Da gennaio a ieri, i dati sono quindi ancora parziali, sono precisamente 316 le operazioni portate a termine, nel bilancio rientra anche il drammatico numero delle vittime, 18. La principale causa di incidente in montagna risulta essere la caduta, seguono i malori e le scivolate ma si contano anche 26 interventi per la perdita di orientamento. La sola stazione di Lecco ha registrato 78 interventi, 47 quelli eseguiti dalla stazione Triangolo Lariano. Stiamo rilevando un aumento dovuto spesso a una mancanza di consapevolezza e quindi continuiamo a sottolineare quanto sia importante andare in montagna più preparati con abbigliamento e materiale tecnico consone all'attività, ribadisce il presidente del soccorso alpino lombardo Luca Vitali. Per Marco Anemoli della diciannovesima delegazione lariana alcuni aspetti quali un'analisi attenta di dove si vuole andare oppure controllare le previsioni meteorologiche forse in passato erano valutati con più attenzione mentre adesso sembrano essere considerati secondari.